Alla chiusura delle ali, da largo e velocissima Romantica Lux che scavalca Rutilia Caff, poi l'apso di Lux in terza posizione. Problemi per la leader che si elimina e lascia al comando Rutilia Caff, a largo muove Ramana Griff che va a caccia della leader, prima di 216 e 5, Ramana attacca a fondo Rutilia Caff e passa a condurre. A tabellone sono finiti il 10 Roma ed il 15 Rusti Calod, 32 e 7 il quarto iniziale, in terza posizione Rapsodi Lux, a precedere richiesta Parra, poi Dilca Regal in quinta posizione, in sesta troviamo Regina Parra, 47 e 7 i 600. In coda al gruppo c'è anche Roxana Dete, ma ancora distante dai primi. 800 conclusi in 1,4 e 7, ardente richiesta Parra e Borrino è costretto a venire a largo. Sta graduando Ramana nei confronti di Rutilia Caff, alla corda Rapsodi Lux, muove all'anggo anche Dilca Regal. Poi Regina Parra, chilometro, percorso in 1,21 e 4, Ramana adesso impegnata da richiesta Parra, lungo la corda Rutilia Caff. Poi Rilca Regal, sollecitata Rutilia Caff, che poi si riprende lungo la corda, ultima frazione in 15,5, retrocede richiesta Parra. Ramana in fuga, poi Rutilia e Rapsodi Lux, a largo sempre richiesta, retta d'arrivo. Ramana Giff per proprio conto c'è, lotta solo per le altre monete. A centropista lo scatto di Regina Parra, Regina Parra è seconda, mentre per il terzo probabilmente ancora Rutilia Caff. si difende a largo da richiesta Parra e all'interno da Renova Lewis. Quindi andiamo a vedere, netta Ramana Giff, facile nelle mani di Attilio Golia, al secondo Regina Parra e dal terzo Rutilia Caff. Quindi arrivo probabile ed ufficioso, 1,7,4, affermazione di Ramana Giff e Attilio Golia. La figlia di Varenne e Franci di Esolo passa al comando in breve e conclude nettamente. Alla media di 1,19,5, 31 il quarto conclusivo. 2,62 euro la quota del vincente.